Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPD, dove per un incidente avvenuto al chilometro 14 in direzione Firenze si segnalano due chilometri di coda tra Montelupo Fiorentino e la Strassigna. Sempre verso Firenze rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra Scandicci e Firenze Scandicci. In A1 code per traffico intenso un'uscita a Firenze in pruneta provenendo da Bologna. In A11 rallentamenti per una perdita di carico tra Prato-Est e Prato-Ovest in direzione Pisa. Statale 1 Aurelia temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni Orbetello in provincia di Grosseto per un incidente. A Firenze in Viala Mendola chiuso il controviale tra Via Giotto e il numero civico 48. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!